Vedi come a volte sorprendono gli uomini? Tu non ci credi? Anche gli uomini sorprendono te. Ma no! Assolutamente. Mi ho sempre visto così lineari. Siete dei maschilisti, guarda. Ma perché? Tu soprattutto te. Beh, vabbè, io sì. Sto facendo da dieci anni, quindi lo posso affermare e riconfermare. Perché sono maschilista? In cosa si nota? In tutto e per tutto. Dimmi. Nelle tue scelte, ti conosco anche fuori a tavola, appunto, ne parlavamo prima. È vero. Proprio in contesto anche fuori, sono un persona molto maschista, ma ti voglio un bene dell'animo. Io te ne renda merito. Grazie, cara. Altro che il movimento Me Too, così mi piace.